Eccoci, buonasera. Il telegiornale parte dal braccio di ferro europeo in corso sulla questione dei migranti. Oggi l'incontro Med9 a Malta, tra gli altri c'erano anche Meloni, Macron, von der Leyen, che si sono anche riuniti a parte. Ma resta la tensione con la Germania. Ha usato una frase che rievoca un modo di dire non elegantissimo, ma efficace nella sostanza. Si vogliono fare gli aiuti umanitari coi confini degli altri da parte della Germania, accusa Meloni. E c'è sempre la vicenda delle navi, delle ONG tedesche, che affrontano la situazione nella zona sud del Mediterraneo. Peraltro tutto questo succede proprio nel giorno in cui una di queste organizzazioni non governative tedesche, Sea-Watch, mostra le immagini dello speronamento da parte di una nave vedetta libica, peraltro che fu donata a Tripoli dall'Italia, nei confronti di un barcone di migranti, a testimoniare, secondo Sea-Watch, la gravità della situazione e la necessità di un controllo indipendente in mare. E' una partita molto difficile perché tutti sanno anche quali sono le posizioni del governo italiano al riguardo. E in generale, dice ad esempio il Ministro degli Esteri italiani, l'organizzazione non governativa del dato paese che salva i migranti è tenuta a portarlo in quel paese. Questa dovrebbe essere la logica che governa le decisioni italiane che vorrebbe il governo di Roma mettere nel patto europeo. Ma siamo lontani da questo. Più in generale, però, dal governo della maggioranza italiana emerge un'improvvisa paura del complotto, della ripetizione di quel che accadde nel 2011. una decisione europea, un flusso europeo contrario al governo Berlusconi, il che contribuì a far crescere in misura spropositata lo spread e a costringere quel governo. Berlusconi, c'era anche Giorgia Meloni tra i ministri, a dimettersi. E' un'accusa che rimbalza sempre più chiaramente. E la stessa Meloni, sempre da Malta, ha detto che continuino a preparare la lista dei ministri per un governo tecnico a mo' di sfida. Da sinistra, si dice, lo fa scotto, che questi sono dei vaneggiamenti privi di senso. Ma è chiaro che il clima è questo, ce lo porteremo nel fine settimana, al netto della questione migranti e delle questioni economiche. Come vedremo, mettono effettivamente sotto controllo lo spread, che comunque non è arrivato, dopo la fiammata ieri che l'ha portato vicino a quota 200, non è arrivato ancora in quella zona, anzi è sceso più verso quota 190. Ma i timori ci sono rispetto a quella che sarà l'accoglienza internazionale ed europea, soprattutto alla manovra. Mentre ci sono questioni più direttamente industriali e sindacali. Quella che è emblematica per le contraddizioni anche, come vedremo, nel mondo della sinistra è quella dell'Amarelli. Creva il core, ci è andata oggi Schlein. Ci andrà Calenda, che però è stato protagonista di una furibonda polemica proprio con la CGL sul trattamento di favore che avrebbe avuto la maggiore industria automobilistica italiana, la ormai ex Fiat Stellantis, perché, come si sa, proprietaria di giornali che in questo momento hanno un'opposizione critica nei confronti del governo. Ma, insomma, stiamo vedendo veleni, molti veleni. Ma ci sono anche storie internazionali da raccontare. Perché è tornato libero di arrestare in Belgio Panzeri, che fu il primo arrestato e il principale inquisito del cosiddetto Qatargate, un'inchiesta che sembrava promettere rivelazioni esplosive, ma che poi si è incagliata. Panzeri confessò subito, ma dopo aver saputo che erano state arrestate in Italia anche la moglie e la figlia. Panzeri era vicino ad articolo 1, il partito di Bersani e Speranza. E vedremo anche però la storia di un ricercatore italo-palestinese che da quattro settimane è agli arresti, è in cella in Israele senza che si sappia quali sono gli addebiti che gli vengono mossi. E dall'Italia c'è una protesta, una richiesta al nostro governo di fare chiarezza, almeno di sapere perché il timore è di un caso Zacchi in Israele. Questo è altro. Pochi secondi, titoli. Non si può fare la solidarietà coi confini degli altri. La posizione è espressa da Giorgia Meloni al vertice di Malta dove c'erano anche Macron e von der Leyen, ma non la Germania è molto chiara. Ed è a Berlino che si rivolge ovviamente la nostra Premier che ovviamente polemizza per i finanziamenti alle ONG da parte di Berlino. Meloni chiede di affrontare la questione con serietà. In un video proprio della ONG tedesca Sea-Watch però si vede una vedetta libica che fu donata dall'Italia che sperona un gommone con molti migranti a bordo. Le polemiche sullo spread che ieri è salito fanno evocare alla maggioranza e lo dicono apertamente in molti il ricordo del complotto ribaltone a seconda dei punti di vista del 2011 quando il governo Berlusconi cadde sotto la spinta internazionale lasciando il posto a Monti. Oggi osservano Palazzo Chigi e siamo attorno ai 195 punti mentre ai tempi di Draghi si arrivò anche a 250 e nessuno si preoccupava. Basta con questo vittimismo a buon mercato, replicano dall'opposizione. Tensione alla Magneti Marelli di Crevalcore Bolognese il fondo americano KKR ha annunciato la chiusura del sito con 229 persone che rischiano il licenziamento produzione spostata a Bari i sindacati parlano di macelleria sociale e con loro si schiera il leader del PD Elish Line oggi in visita la CGL però definisce ospite non gradito Calenda che annuncia domani sarà davanti allo stabilimento e che ha accusato proprio la CGL di aver avuto un occhio di riguardo per la ex Fiat sulla Marelli perché è la proprietaria di Repubblica La Stampa. Scarcerato dopo quasi dieci mesi di detenzione Antonio Panzeri, l'ex europarlamentare del PD passato articolo 1, arrestato a Bruxelles con l'accusa di aver avuto un ruolo centrale nel cosiddetto Qatargate la rete di corruzione che sarebbe stata ordita da Qatar e Marocco per influenzare a loro favore le decisioni dell'Europarlamento è un lennesimo colpo a una max inchiesta che ha visto finora solo una condanna a pochi mesi. C'è un ricercatore italo-palestinese, Khaled Elkazi arrestato un mese fa al confine della Cisgiordania dalle autorità e dalle guardie di frontiera israeliane senza una formulazione di atto di accusa una situazione di incertezza nella quale l'uomo denuncia il suo legale si trova in un carcere di massima sicurezza la moglie italiana ha chiesto l'immediata liberazione. Buonasera, quindi si fa se possibile più intricata la vicenda migranti si sperava nel vertice risolutore oggi a Malta e a margine del cosiddetto Med 9 con tutti i paesi del Mediterraneo europei impegnati all'Atere ci sarebbe stato e c'è stato un incontro a tre tra Meloni, Macron e von der Leyen ma da quell'incontro e attorno anche alle cose che si sono sentite rispetto alla Germania e alla bozza spagnola di patto si capisce che siamo ancora è orribile dirlo con l'immagine marinaresca ma in alto mare. Io capisco per carità la posizione del governo tedesco ma a quel punto se loro vogliono tornare indietro sulle regole delle organizzazioni non governative allora noi proponiamo un altro emendamento in forza del quale il paese responsabile dell'accoglienza dei migranti che vengono trasportati sulla nave di un'organizzazione non governativa è quello della bandiera della nave dell'organizzazione non governativa perché chiaramente capisco io la posizione degli altri però non si può fare la solidarietà con i confini degli altri. E' durissima Giorgia Meloni che da Malta dove partecipa al Med9 il vertice dei paesi dell'area del Mediterraneo torna sullo scontro ieri a Bruxelles che ha portato alla frenata sul patto europeo per i migranti. I toni non sono quelli della Lega Meloni non evoca i carri armati la sostanza però non si discosta. Scorretto Scholz la versione di Meloni ho avuto diversi contatti col cancelliere è stato fatto mezzo passo indietro insiste. Qui al vertice ho presentato la nostra ricetta non so se Macron ne ha parlato ma gli altri sono d'accordo con noi. E' inutile discutere di ricollocamenti si deve partire dalla difesa dei confini esterni Meloni che considera inaccettabile non solo l'emendamento pro-NG presentato dalla Germania ma anche il fatto che mentre si discuteva a Bruxelles sette navi delle organizzazioni umanitarie finanziate da Berlino fossero attive nel Mediterraneo senza concordarne l'intervento col governo italiano. La soluzione è il partenariato dice la Premier che annuncia la consegna alla Tunisia della prima tranche di sostegni evidentemente i tunisini hanno fatto fede agli impegni presi spiega senza far cenno allo stop nei giorni scorsi imposto dal presidente Sayed alla missione dell'Unione Europea a Tunisi. Dobbiamo dare solidarietà all'Italia si schiera al presidente francese Macron anche lui a Malta per il vertice Med 9 il governo non sa che pesci prendere dopo tutte le stupidaggini sul blocco navale e sulle retate di trafficanti lungo tutto il globo terraqueo attacca dall'opposizione il capo politico dei 5 Stelle Conte. Blocco navale attuato dalla guardia costiera libica che ha speronato un gommone mettendo a rischio la vita di 50 persone il messaggio di Sea Watch, l'ONG tedesca che ha ripreso e raccontato quello che è successo stamattina. questo è tentato omicidio da parte della cosiddetta guardia costiera libica il commento sui social della ONG. Come vedete è una situazione molto difficile e intricata con le ONG proprio quelle tedesche che vogliono dimostrare il loro ruolo anche di controllo su quello che sta accadendo e la posizione italiana che avete sentito riassunta all'inizio da Giorgia Meloni con la parafrasi di una frase indimenticabile pronunciata da 18 anni fa da un imputato di una vicenda bancaria molto famosa quella dei furbetti del quartierino ma è qui si vuole fare davvero la solidarietà con i confini degli altri e Meloni è andata anche più in là e ripartiamo proprio dalle parole di Giorgia Meloni perché c'è un altro scenario si vuole creare uno scherzetto all'Italia cioè ad ombra anche la Premier in qualche modo si vuole ricreare quella serie di condizioni che nel 2011 portarono alla caduta del governo Berlusconi alla sinistra continui a fare la lista dei ministri del governo tecnico che noi intanto governiamo da Malta Giorgia Meloni ironizza su quelli che chiama i soliti noti che sperano nello spread e nelle difficoltà dei conti pubblici per rovesciare il suo esecutivo e assicura il governo sta bene la situazione è complessa l'abbiamo maneggiata con serietà l'anno scorso e anche quest'anno lo spread che lanciate come se fosse la fine del governo Meloni stava adesso a 192 punti ottobre scorso 250 e durante l'anno precedente il nuovo governo è stato più alto e i titoli non li ho visti fra d'otto con Draghi a Palazzo Chigi lo spread era molto più alto di adesso una replica secca ai titoli di oggi di Repubblica e Stampa con tanto di retroscena su presunte manovre in corso per creare le condizioni di un cambio di governo dove si interpretano segnali esterni ed interni esterni come quelli che arrivano dalla Germania sulla crisi dei migranti interni come la nascita nel PD sotto legida dell'ex ministro Franceschini di un correntone a sostegno della segretaria Schlein il cui vero fine sarebbe invece quello di spodestarla se la situazione finanziaria del paese richiedesse un governo di larga intese Meloni evoca il complotto internazionale su un eventuale governo tecnico vittimismo a buon mercato taglia corto dal PD Arturo Scotto ma dietro le parole ci sono sussurri, tam tam di palazzo scenari più o meno fantapolitici che richiamano alla mente il precedente del 2011 molto citato in questi giorni per la scomparsa dell'allora capo dello Stato napolitano con Monti chiamato a Palazzo Chigi per domare lo spread fuori controllo al posto di un Berlusconi arrivato al Capolinea l'ex premier che oggi avrebbe compiuto 87 anni al centro della Kermess di Forza Italia a lui dedicata partita oggi a Pestum non c'è nessun clima da funerale vogliamo celebrare non in maniera nostalgica non guardando indietro ma guardando avanti come lui vorrebbe assicura Tajani che ha raccolto in attesa del congresso la difficile eredità del fondatore vogliamo essere protagonisti della politica italiana la tre giorni di Pestum come prima prova d'orgoglio di un partito rimasto orfano del suo storico leader atteso l'anno prossimo al test decisivo del voto alle europee Tajani allontana i fantasmi se lo tolgano dalla testa non scompariremo vedrete che il weekend sarà tutto all'impronta di queste polemiche di questi due aspetti quello italo-tedesco sui migranti e quello che anche quello è un po' italo-tedesco visto il precedente sulla possibilità di una spallata con concorso esterno al governo ma resta poi la sostanza dei problemi che sono i problemi di sbarchi accoglienze respingimenti e ricollocamenti per quanto riguarda i migranti e di attenzione ai mercati per quanto riguarda spread ma anche debito pubblico e tassi a proposito oggi lo spread tra BTP italiano e Bund tedesco a dieci anni si fissa oggi a 194 punti base in calo rispetto a ieri quando aveva superato seppure temporaneamente quota 200 in lieve discesa anche il rendimento al 4,78% i listini europei chiudono in positivo grazie soprattutto ai segnali di rallentamento dell'inflazione nell'eurozona stimata a settembre al 4,3% in calo di ben lo 0,9% rispetto ad agosto dato quest'ultimo che riaccende le speranze degli investitori dopo dieci rialzi consecutivi dei tassi di interesse da luglio del 2022 la banca centrale europea potrebbe optare per una pausa a cui far seguire un'inversione di tendenza anche in Italia l'Istat rivede a ribasso le stime a settembre più 5,3% su base annua rispetto al 5,4% stimato ad agosto al minimo rispetto a gennaio 2022 e in crescita dello 0,2% su base mensile frena anche il carrello della spesa ora all'8,3% ma non tanto quanto sarebbe necessario e questo all'indomani del protocollo anti-inflazione sigliato dalla Premier Meloni con i rappresentanti di Confesercenti Confcommercio e Feder Distribuzione per una serie di beni di largo consumo a prezzo calmierato risalgono invece i prezzi dei trasporti pubblici di carburanti luce e gas sul mercato libero e sebbene in misura minore anche sul mercato tutelato se la crescita effettiva dei prezzi di questo settembre rimarrà la stessa nei prossimi tre mesi l'inflazione acquisita ovvero quella per il 2023 sarà pari al 5,7% ma c'è una vicenda industriale sindacale quindi che riguarda una comunità ma è anche emblematica dei rapporti tra partiti di opposizione e sindacato è quella della Marelli di Clevalcore cosa succede lì? la KKR che peraltro è un fondo internazionale è un fondo internazionale che ha anche una partnership e una quota di team ha deciso di smettere quello stabilimento puntando sulla produzione a Bari ma c'è la protesta e ci sono anche delle code polemiche che riguardano partiti e sindacato sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo Marelli in Italia e incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 3 ottobre sarà una giornata probabilmente decisiva per il destino del sito di Clevalcore in provincia di Bologna e delle 229 persone che ci lavorano il fondo statunitense KKR che controlla la giapponese CalSonic Cansei la quale a sua volta nel 2018 aveva acquistato la Marelli da FCA per oltre 6 miliardi di euro ha infatti annunciato una decina di giorni fa la chiusura di quello stabilimento e la decisione di trasferire la produzione di componentistica dei motori delle auto a benzina e diesel nella sede di Bari una decisione che porta con sé tutte le preoccupazioni per il destino della Motor Valley emiliano-romagnola in uno scenario di transizione ecologica e quelle per il progressivo disimpegno di quella che ormai dopo la fusione con la francese PSA è diventata Stellantis con il baricentro del gruppo progressivamente spostatosi a Parigi un gruppo che per la componentistica predilige la francese Forvia rimasta peraltro al contrario di Marelli legata al colosso automobilistico una battaglia quella dei lavoratori di Crevalcore che da sindacale non poteva che diventare anche politica oggi a Crevalcore è arrivata il Schlein che ha attaccato KKR fondo che sta trattando con il governo l'acquisto della rete Telecom è definito dalla segretaria del PD inadeguato a gestire infrastrutture strategiche italiane ma servono politiche pubbliche che accompagnino gli investimenti che servono sulle filiere che riescano a puntare sulla formazione delle competenze senza le quali non fai queste trasformazioni ci sono 6 miliardi che il governo precedente aveva messo sull'automotive ecco noi chiediamo al governo che vengano utilizzati per salvaguardare questa filiera domani sarà la volta del leader di Azione Calenda accompagnato da feroci polemiche con la FIOM CGL che lo ha definito ospite non gradito dopo che sulla sua pagina Facebook mercoledì sera l'ex ministro dello sviluppo economico aveva attaccato pesantemente il sindacato stesso peraltro il più critico nei confronti di Stellantis in questi anni e anche il segretario generale della CGL Landini accusati di chiudere gli occhi di fronte al disimpegno del gruppo dall'Italia e questo per compiacere gli Elcan nel frattempo diventati editori di quello che Calenda ha definito il principale quotidiano di sinistra Repubblica per il sindacato ha aggiunto è stato più importante andare d'accordo con l'azionista di Repubblica che combattere contro la deindustrializzazione del settore automotive parole offensive nei confronti dei lavoratori secondo la FIOM ho criticato Landini non i lavoratori ha controreplicato Calenda confermando la sua visita a Crevalcore sono un senatore della Repubblica e vado dove ritengo di andare le intimidazioni e le minacce non funzionano come ha affermato e tuttavia c'è di buono che i giornali tornano a contare qualcosa anche se sono oggetto abbiamo visto più riprese e delle polemiche ma vediamo adesso una storia che ha avuto anche un riscontro proprio informativo e che ha riguardato proprio la 7 perché riguarda quel signore Baiardo che avrete visto nelle trasmissioni ricordate non è l'arena di Giletti il Tribunale del Riesame di Firenze dice che è arrestabile però ci sono dei distinguo vediamo dopo il no del giudice per le indagini preliminari in seconda battuta la Procura di Firenze incassa un successo anche se solo parziale il Tribunale del Riesame ha colto il ricorso presentato dal procuratore aggiunto Luca Tescaroli e ha disposto gli arresti domiciliari per Salvatore Baiardo faccendiere ed ex fiancheggiatore dei fratelli Graviano capimafia di Brancaccio condannati per le stragi mafiose del 92 e 93 ma l'ipotesi accolta è relativa solo al reato di calunnia nei confronti di Massimo Giletti mentre è stata respinta la richiesta per favoreggiamento a Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri l'inchiesta è quella sui presunti mandanti esterni delle stragi e che nello specifico ruota intorno a quella fantomatica foto che Baiardo in un bar avrebbe mostrato solo di sfuggita Giletti senza dargli modo di osservarla con attenzione che ritrarrebbe insieme Silvio Berlusconi Giuseppe Graviano e il generale dei carabinieri Francesco Delfino una foto che sarebbe stata scattata nel 1992 prima della discesa in politica del Cavaliere sul lago di Orta dove Graviano era latitante uno scatto che dimostrerebbe un patto scellerato Berlusconi e Dell'Utri come mandanti delle stragi ipotesi già avanzata mai riscontrata e sempre fin qui archiviata ma la questione riaperta nella nuova inchiesta della procura distrettuale antimafia di Firenze è tutt'altro che semplice perché davanti al pubblico ministero Baiardo ha poi negato di aver parlato a Giletti di quella foto tanto più dopo che il conduttore è stato convocato dalla procura e ha dato la sua versione raccontando di quell'incontro nel bar di quella foto in cui non era possibile riconoscere Giuseppe Graviano nonostante quanto sostenuto da Baiardo e dopo che la DIA si è messa in moto e ha fatto quelle perquisizioni nella casa di Baiardo a caccia proprio di quello scatto ora l'accusa di calunnia ma affinché gli arresti diventino esecutivi bisognerà aspettare la scadenza del termine di 30 giorni concesso ai difensori per presentare un possibile ricorso se lo faranno sarà la Cassazione a dover dire l'ultima parola è una questione ancora intricata e se non parla qualcuno compreso Giletti non ci capiremo mai bene è tutto andiamo a vedere adesso però un'altra vicenda che era partita con grandissimo clamore e che si è andata un po' spegnendo anche perché il procuratore che aveva iniziato tutta quella clamorosa inchiesta quella del Qatargate è stato estromesso dall'inchiesta stessa perché si è scoperto che aveva un conflitto di interesse clamoroso nei confronti di un'imputata che era stata risparmiata rispetto alla possibilità di essere arrestata non c'è più quel cles l'inchiesta è andata un po' a finire sotto la linea di visibilità e nel frattempo però oggi il principale imputato l'italiano Panzeri ex eurodeputato del PD passato poi a articolo 1 è stato rilasciato deve restare però in Belgio Antonio Panzeri il grande accusato del Qatargate è stato rilasciato per buona condotta sotto condizioni non potrà allontanarsi dal Belgio né incontrare gli altri indagati ma sostanzialmente è libero dal 6 aprile era ai domiciliari era stato arrestato il 9 dicembre scorso dal giudice e istruttore belga Michel Claes con un'accusa pesantissima essere il perno di un sistema corruttivo orchestrato per drenare denaro sporco da Qatar e Marocco per influenzare alcune decisioni politiche del Parlamento europeo 4 mesi in carcere poi il patteggiamento a un anno di reclusione e la confisca di un milione di euro era stato anche l'arresto in Italia della moglie e della figlia a farlo confessare in cambio del loro rilascio una forzatura per farlo parlare a tutti i costi hanno polemizzato qualche giorno fa i suoi avvocati ma la procura federale fa sapere che Panzeri resta ancora un indagato in quella vicenda il sistema belga non prevede un termine per le indagini e il nuovo giudice istruttore Aurelie Dejaf che da giugno scorso ha preso il posto di Claes costretto a lasciare per un potenziale conflitto di interessi tra una vicenda che riguardava suo figlio e quello di una eurodeputata mai indagata ha fissato una nuova udienza per il prossimo 14 maggio davanti alla Corte d'Appello per la valutazione degli atti udienza che cadrà a un mese dalle elezioni europee Panzeri è dunque l'ultimo in ordine di tempo a essere ritornato completamente libero Libera è Eva Caili l'ex vicepresidente del Parlamento Europeo arrestata lo scorso dicembre Libero e il suo compagno Francesco Giorgi vivono entrambi a Bruxelles Libero è l'ex europarlamentare Marc Tarabella trascinato anche lui nell'inchiesta dopo la confessione di Panzeri e Libero è anche Andrea Cozzolino arrestato ai domiciliari a Napoli a febbraio scorso che ha accusato la procura belga di aver violato il Parlamento Europeo con quell'inchiesta non ho ancora capito quali accuse concrete muovono contro di me ha detto Cozzolino al di là del reato generico di associazione per delinquere corruzione e riciclaggio contestato a tutti gli indagati insomma tutti liberi in attesa di capire cosa succederà a maggio nell'inchiesta che sembrava dovesse polverizzare il Parlamento Europeo oltre 60 eurodeputati lambiti dalla storia delle mazzette e che al momento vede solo la condanna del principale accusato a pochi mesi di detenzione prima di andare alle altre notizie internazionali vi devo parlare delle ricerche che sono ancora senza esito del marito di Feva Clodiana la donna di origine albanese di 35 anni uccisa in una strada di Castelfiorentino a 30 km da Firenze ieri sera è l'86esima uccisione di una donna femminicidio se preferite in Italia dall'inizio dell'anno l'uomo anche gli albanese sposato con la vittima da 20 anni in Italia risulta irreperibile appunto la 35enne era madre di due figli e si stava separando dal marito le hanno sparato in strada sotto casa con una pistola due colpi uno fatale alcuni testimoni hanno visto un uomo fuggire dopo il delitto su un'auto inutile dire su chi si concentrano i sospetti ma come abbiamo visto anche nel servizio precedente la giustizia deve avere certezze andiamo allora alla guerra d'Ucraina intanto quali sono le novità principali arrivano da Mosca per il Cremlino la priorità in questo momento è colmare i vuoti che si sono creati tra i reparti russi impegnati in Ucraina proprio oggi Putin ha firmato il decreto sulla coscrizione autunnale che porterà in divisa circa 130.000 uomini in età compresa tra i 18 e i 27 anni ma lo stesso Stato Maggiore Russo ha spiegato che le reclute non saranno per ora spedite al fronte dove servono uomini pronti ed esperti ed ecco allora rispuntare prepotentemente i mercenari della Wagner circa 500 uomini sono stati già segnalati sul fronte di Bakhmut militari che hanno negoziato nuovi contratti direttamente con il ministero della difesa il problema però è come coinvolgere e convincere dopo l'omicidio del loro capo Prigojin il grosso della Wagner sparso tra Bielorussia e Africa per questo Vladimir Putin ha pensato al colonnello in pensione Andrei Troshev uno dei fondatori della Wagner che è stato convocato al Cremlino e al quale è stato affidato un compito molto delicato dovrà allestire unità di volontari per combattere in Ucraina tu stesso lo hai fatto in una unità del genere per più di un anno sai di cosa si tratta conosci i problemi che devono essere risolti in anticipo affinché i combattimenti avvengano nel modo migliore e con maggior successo l'ha incalzato Putin il settantenne Troshev è noto negli ambienti militari come Sedoi cioè capelli grigi è un veterano pluridecorato di tutte le guerre dall'Afghanistan alla Cecenia dalla Siria all'Ucraina proprio per il suo ruolo a sostegno del regime siriano di Assad è stato sanzionato dall'Unione Europea e dalla Gran Bretagna dallo scorso luglio Troshev è stato integrato nell'organigramma del Ministero della Difesa al quale ha offerto la sua lealtà dopo essersi rifiutato di seguire Prigojin nell'ammutinamento di giugno da quel giorno sui fronti ucraini molto è cambiato Kiev ha preso l'iniziativa sia ad est tornando a minacciare Bakhmut sia soprattutto a sud nella regione di Zaporizia dove i russi sono in difficoltà Zelensky ha preannunciato che domani ci saranno novità importanti in particolare per i soldati nelle stesse ore le sue forze armate hanno lanciato l'allarme perché nel Mar Nero è aumentata di molto la presenza di navi nemiche C'è un altro focolaio di tensione molto vicino anche all'Italia perché ancora torna a farsi altissima la tensione al confine tra Kosovo e Serbia ebbene pochi istanti fa la Casa Bianca con un passo ufficiale ha chiesto alla Serbia di ritirare le sue forze dal confine col Kosovo evidentemente i timori sono di nuovi scontri o addirittura di una invasione armata ma l'ultimo servizio lo vogliamo dedicare a una vicenda che ancora ci porta al cospetto di arresti e assenza di chiarezza sul motivo della detenzione questa volta andiamo in Israele quasi un mese dopo il suo arresto è la comunità scientifica che si mobilita per Khaled è il Kaisi cittadino italo-palestinese ricercatore all'Università La Sapienza di Roma arrestato mentre attraversava il valico di Allenby fra Giordania e Cisgiordania una vicenda che comincia il 31 agosto quando Khaled la moglie italiana Francesca Antonucci e il loro figlio di 4 anni dopo aver trascorso una vacanza in famiglia nei territori palestinesi occupati vengono fermati al valico della polizia israeliana senza nessuna spiegazione Khaled viene ammanettato secondo il racconto della moglie che viene rispedita in Giordania col bambino senza soldi né telefono Khaled viene trasferito nel carcere di massima sicurezza di Shikma ad Ashkelon dove secondo Amnesty International è stato tenuto in isolamento per 14 giorni il giovane ricercatore non ha potuto fino ad oggi incontrare il suo avvocato e non conosce gli atti su cui si base il fermo il suo legale Flavio Albertini Rossi lo stesso dell'anarchico Alfredo Cospito teme che in mancanza di prove la detenzione penale venga sostituita con quella amministrativa che viene applicata dalle autorità israeliane anche in mancanza di accuse formali e di prove concrete e prevede il carcere per periodi o di alcuni mesi rinnovabili a discrezione del giudice Amnesty International chiede il rilascio immediato e senza condizioni mentre un gruppo di docenti italiani chiede al governo e al ministro degli esseri italiani di intervenire presso le autorità israeliane dopo di noi a otto e mezzo gli ospiti di Ligruber sono Federico Marchetti Antonio Padellaro Francesca Pascale e Brunella Bolloli poi è venerdì e c'è propaganda e allora con Zoro troviamo Don Luigi Ciotti Sabina Guzzanti Kula Shaker Andrea Pennacchi Costanza Eroicer Filippo Ceccarelli Francesca Schianchi e Paolo Celata ci fermiamo Infine le borse Milano ha chiuso in positivo più 0,29 aveva aperto positivamente Wall Street ma adesso è andata in negativo il Dow Jones è a meno 0,71 il Nasdaq sta scendendo progressivamente sotto la parità meno 0,12 è tutto Gruber Zoro ci vediamo domani sera buonasera Grazie a tutti Grazie a tutti